Bambini e ragazzi sotto i 18 anni entrano gratis nei musei statali, da sempre. Da oggi tutti i giovani dai 18 ai 25 anni pagano soltanto 2 euro, se poi studenti in facoltà di ambito culturale continuano ad entrare gratis. Per tutti i visitatori di qualsiasi età aumentano le giornate gratuite, 20 all'anno in ciascun museo. Scopri quali sul sito web Io vado al museo! Grazie a tutti!